La legislazione dell'Unione Europea cerca di sostenere e rafforzare il ruolo guida nella produzione di olio d'oliva garantendo alti standard di qualità e promuovendone il consumo. Poiché l'olio d'oliva è sempre più percepito come simbolo di un'alimentazione sana, il suo consumo è aumentato in tutto il mondo e i produttori dell'Unione Europea ne sono i principali esportatori. Oggi le nuove tecnologie consentono di gestire un'azienda agricola utilizzando l'agricoltura di precisione. Mediante i droni, per esempio, è possibile individuare le zone dei propri terreni che richiedono interventi sulla base delle esigenze specifiche delle culture. L'Unione Europea ha una strategia per un sistema alimentare sostenibile, noto come Farm to Folk. Un obiettivo centrale è quello di aumentare la produzione di acquacultura europea in modo rispettoso dell'ambiente. L'acqua ponica è un metodo che integra il sistema di acquacultura, arriciclo e l'idroponica in un unico sistema produttivo. L'Unione sostiene finanziariamente la ricerca e l'innovazione nel settore dell'agricoltura biologica, permettere a punto e diffondere soluzioni che permettano di migliorare le prestazioni delle aziende biologiche. L'Unione contribuisce anche al finanziamento di campagne di promozione dell'agricoltura biologica presso i consumatori.